Andiamo ad Asso, la scuola secondaria Segantini propone ai propri alunni un percorso completo di educazione stradale, prevedendo una serie di iniziative ad integrazione della tradizionale procedura per il conseguimento del patentino. L'intenzione è quella di contribuire attivamente ad aumentare nei ragazzi il senso di responsabilità, siano essi pedoni, ciclisti o quando si mettono alla guida di un motoveicolo. I ragazzi che compiono i 14 anni frequentano i corsi per conseguire il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, il cosiddetto patentino. Le lezioni tenute dagli insegnanti della scuola e dagli agenti di polizia locale trattano la conoscenza e il rispetto delle norme del codice della strada e permettono ai ragazzi di sostenere l'esame teorico attraverso la risoluzione di quiz teorici al quale farà seguito la prova pratica presso la motorizzazione civile introdotta dalla normativa in vigore dal 1 aprile 2011. L'istituto comprensivo di Asso ha ritenuto necessario integrare il percorso educativo avvalendosi dell'intervento del Motoclub Asso, attivo da anni nel campo della sicurezza stradale, settore coordinato dal socio Rinaldo Batelli, docente e formatore di educazione stradale della Federazione Motociclistica Italiana. Negli incontri, dice Batelli, mi rivolgo ai ragazzi con linguaggio positivo e propositivo, senza tuttavia negare la tragica realtà. Il mio intento è quello di riflettere con gli alunni per innalzare il livello di prudenza sia alla guida di un motoveicolo, sia di una bicicletta e accompagnarli in un percorso che permetta loro di prendere coscienza dei propri limiti e dei limiti del mezzo meccanico. L'obiettivo finale è quello di diffondere la cultura della sicurezza e contribuire al rispetto delle regole di convivenza civile e di rispetto della vita propria e altrui. Con l'ausilio di presentazioni multimediali e della LIM, la lavagna interattiva multimediale, immagini, video e la prova di materiali motociclistici, il professor Batelli nelle sue lezioni propone situazioni problematiche a cui gli adolescenti devono dare risposta individuando la soluzione. Come alla guida del proprio scooter, i giovani motociclisti sono chiamati a compiere delle scelte consapevoli all'insegna della propria e altrui incollumità. Sono molte le iniziative di educazione stradale messe in campo dall'Istituto Comprensivo di Asso in collaborazione con le agenzie educative del territorio. Nelle scuole primarie vengono svolti momenti formativi specifici con l'intervento della Polizia Municipale.